Questa è la location della mostra, che cosa verrà esposto? Il Consiglio regionale espone 84 pannelli che riproducono la Gazzetta del Mezzogiorno dei 55 giorni, alcuni precedenti e altri successivi, con le iniziative del Consiglio regionale che tentano di ricordare la vicenda tragica di Moro, ma anche il suo pensiero e la sua azione. Qual è la tesi? La tesi fu, Moro fu abbandonato da tutti, tranne dai pugliesi e la Gazzetta dell'epoca lo scrive. Ci sarà anche una premiazione? Il Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo ha inteso con l'Associazione Consiglieri regionali dell'ingegnere Ferlicchia dare una testimonianza ai consiglieri regionali superstiti del 1970, a tutti i Presidenti del Consiglio, e a tutti i Presidenti della Giunta regionale, a testimonianza di un impegno in favore della Puglia. Quando si apre, qual è il programma? L'inaugurazione è l'11 marzo, lunedì 11 marzo alle 11, con l'intervento del Presidente del Consiglio, quello mio, della Secretaria Generale del Consiglio, Avvocato Gattulli, e del direttore dell'USR, la dottoressa Cammaleri, e del direttore della Gazzetta. La mostra è qui due mesi a disposizione di tutti i pugliesi, abbiamo già un centinaio di scuole che intendono portare i ragazzi per vederla.